Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote Bene, quest'oggi io non sono potuta essere presente con voi alla diretta perché come sapete ero al lavoro ma so che è andata molto bene, che siete stati molti a seguirci, anzi a seguire Andrea perché oggi siete rimasti in sua compagnia e volevo ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno fatto una donazione al nostro canale e sono, spero di non dimenticare nessuno Maxi, Hilde, Big Boss, Sue, Francesca e Pauline, spero di non essere dimenticata nessuno io però prima di lasciarvi al video vi devo dare l'aggiornamento dei casi del giorno ovvero quest'oggi sono stati registrati 5 nuovi positivi e i casi sono scesi a 114 perché ci sono state 17 dimissioni quindi finalmente oggi una buona notizia Bene ragazzi, adesso vi lascio al video e come sempre vi aspetto più tardi Vai regia con il video! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!